Mister Corrado Schiazza, il dopo partita di Mignano e Gossestresi, questo 9 a 0 che praticamente ora consegna l'appendice di 90 minuti tutti da vivere contro la Renzano, quindi che partita intanto abbiamo visto? Fino a tempo molto difficile, eravamo tesi, abbiamo giocato tanto sotto ritmo, poi dopo l'astegliata del primo secondo tempo, la squadra è entrata in campo con un altro figlio, dove la nostra fisica atletica ha fatto un messo di fare questo risultatone, poteva essere anche più rotondo, ora mi dicono che sembri che basti per arrivare a quelle off da terzo, speriamo che quello che l'entusiasmo che c'è in questo momento sia veritiero e abbiamo fatto questo che poi le offre in casa, che è una bella cosa per cui la Seste, grazie mille Mister, grazie a voi.